Il disco più famoso è l'unico essenzialmente, si chiama Guanatangula, è degli anni Ottanta. La Ciampeta, che è la musica che lui ha andato a definire, deriva da un genere che se vogliamo si può definire Cialuzonga, che è sempre legata a San Basilio de Palenque e quindi alla tradizione afrocolombiana. È una musica ripetitiva, tribale, non saprei come descriverla ulteriormente. È fatta di stratificazioni percussive e ritmiche, chitarristiche non solo. Quindi ognuno, o meno qualsiasi persona presente in un luogo, può aggiungere un piccolo strato a questa, come dire, composizione multistrato per l'appunto e andare a comporre quello che è un tessuto ritmico estremamente ripetitivo, estremamente tribale, estremamente coinvolgente e travolgente. È come se fosse un embrione di una Soul Sacrifice di Sant'Ana o genere che abbiamo conosciuto magari nel mainstream con il repertorio dei Mano Negra. E quello che emerge rispetto alla chitarra elettrica, che è comunque uno strumento strano per la musica folk, perché di musica folk, in sintesi stiamo parlando in questo momento, è che il suono della chitarra elettrica, come viene affrontato, diventa particolare e viscerale. Si riduce alla parte puramente ritmica, perde tutte quelle che sono le finezze dello strumento elettrico, anche nella ricerca, se vogliamo, timbrica o melodica e armonica della chitarra, e si riduce a un utilizzo ritmico come se fosse una conga, come se fosse una percussione. La ciampeta è fatta di strumenti originariamente acustici, quindi le congas, le percussioni di vario tipo, l'utilizzo delle voci, dei cori, un contrabbasso che poi in realtà diventa un basso elettrico e appunto la chitarra elettrica che ha essenzialmente la necessità di essere amplificata per farsi sentire rispetto agli altri strumenti. Ancora una volta il termine ciampeta è un brutto modo di definire una popolazione, perché la ciampeta originariamente indicava il coltello, un coltello simile al macete che era usato nella regione colombiana, a lavoro, in cucina o come arma offensiva. Ovviamente era utilizzato dagli strati più poveri della popolazione. Negli anni Ottanta diventa un genere da ballo, da festa e il suono che ne esce arriva ad affascinare fino ai giorni nostri. Ovviamente mi chiedo che cosa sia in un musicista così particolare, così strano, così remoto, la cosa che tocca il mio immaginario di uomo europeo. Credo che questo sia essenzialmente, anzi principalmente, nella sonorità cosiddetta la twang della chitarra di Abelardo Carbonò. Quindi questo suono che viene definito uno sferragliamento musicale, tipico di alcune chitarre particolari, per chi è più esperto, sono le Fender, essenzialmente le Telecaster, le Stratocaster, oppure anche le Gretsch hanno questo tipo di suono, molto acuto, molto percussivo, nel senso che vai a sentire la corda che sbatte sul manico, sui tasti, sui pick-up. E Abelardo Carbonò ha questo tipo di sonorità. È un suono, il twang, quasi sempre riferito a sonorità vintage, a suoni puliti, carichi di frequenze, alte e medio-alte principalmente, e ancora più spesso si riferisce a timbriche che vanno a rock and roll dalle origini, al country, al rockabilly. Per esempio, per fare un esempio che sia universalmente comprensibile, il twang è un po' il suono delle chitarre nei dischi di Johnny Cash, dalla musica country al country rock, oppure nella ricerca che fanno determinati chitarristi in genere country per cercare di replicare il timbro del band. Ovviamente qui parte una questione di gusto, un tipo di sonorità combinato a quella che è una saturazione analogica del suono, cioè il fatto che una chitarra, soprattutto negli anni 50, veniva inserita in un amplificatore per avere il volume degli altri strumenti, e gli amplificatori non sempre raffinati, più venivano alimentati in termini di volume, più andavano a distorcere il suono, creando quello che è poi oggi una sonorità che viene forzatamente replicata con strumenti anche digitali. Un'altra particolarità di questo tipo di suono, ad esempio, è il tremolo. Il tremolo è una fluttuazione ritmica, è un effetto essenzialmente elettromeccanico, uno dei primi effetti musicali che sono stati applicati alla chitarra. Basti pensare ai lavori di Big Bill Brunzi, piuttosto che Muddy Waters o Bode Idley, che utilizzando la chitarra elettrica per i blues, in amplificatori rudimentali, primordiali vorrei dire, andavano a trovare questo tipo di sonorità molto particolare. È stato progettato circa 80 anni fa e combinato con il twang, combinato con la saturazione dell'amplificatore, va a comporre quello che è un timbro essenzialmente originale, particolare ed evocativo. In Colombia abbiamo altri esempi fantastici di questa chitarra psichedelica, chiamatemi il regista che fra un po' ne ho bisogno, per favore, grazie. E anche più virtuosi, sì, no, io cerco di fare un racconto romantico, però poi il regista sparisce. E anche approcci più virtuosi di quello che è l'approccio elementare di Abelardo Carbonò. Ma soprattutto parliamo di una chitarra elettrica che non è quella che conosciamo nel rock and roll, che non è quella, ad esempio, di Jimi Hendrix, come ci siamo spiegati. È essenzialmente una chitarra che deve farsi sentire. Un caso molto emblematico è quello di un chitarrista che si chiama José Lorenzo, detto Elche Benitez, che era il chitarrista di un gruppo che si chiama Peregoio Isucombo Vacanà, di cui non voglio parlare perché in realtà è sempre in Colombia, ma stavolta nel lato Pacifico, e quindi ci arriveremo probabilmente per altre strade in altre puntate di questo podcast. Peregoio Isucombo, che è una band che deriva dal lavoro di Enrico Urbano Tenorio, nato nel 1917, per darvi un po' i termini di anzianità di questo tipo di musicisti, di questo tipo di esperienze musicali. È un gruppo molto noto, non solo in Colombia, che ha fatto musica da ballo per molti anni, musica che ha una componente ruvida, estremamente forte e spiccata. José Lorenzo Elche Benitez era il chitarrista principale, e per farvi sentire il modo in cui suonava la chitarra ascoltiamo, però solamente in sala in questo caso, un brano che si chiama Sacalebrio Teresa. Grazie. 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 Ha mili minuti? Quanti minuti mancano? Un minuto e mezzo? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I brani che non sono coperti da diritti o quantomeno da edizioni musicali, mentre invece ciò che è protetto da edizioni musicali lo sente solo chi è qua. Perché abbiamo come scusa? Questa l'avete sentita solo voi, pensa, in esclusiva per voi, però siccome siamo anche buoni, oltre che vezzosi. Questo brano si chiama Sacale Brillo, la dico l'italiana, Teresa, ed è della band Peregoio i succombo vacanà. Peregoio, e lo trovate, lo trovate facilmente in rete e potete ascoltarvelo con calma. Sono registrazioni della seconda metà degli anni 60. Peregoio ha inciso essenzialmente tra 67 e 69. La cosa interessante è che quando potete immaginare come poteva essere il mondo della discografia in Colombia negli anni 60, insomma non esattamente il mondo di Abbey Road, per intenderci. E quando nel 63 l'etichetta Discos Fuentes, che essenzialmente era l'unica etichetta colombiana esistente, ed era Medellin, fece registrare Peregoio, fu estremamente scettica sul fatto di registrare la chitarra. Perché la chitarra non era uno strumento folk, la chitarra elettrica di questo straordinario musicista che abbiamo sentito, Lorenzo Elche Benitez. E quindi gli chiesero di cercare di far suonare la chitarra come una marimba, di modo che potesse sembrare uno strumento realmente ammesso, diciamo, nell'ortodossia del folk colombiano. Dopodiché il suo strumento determinò in realtà uno degli elementi portanti di quello che è uno stile, ricercato anche poi da musicisti contemporanei molto più famosi e richiesti, come ad esempio prima abbiamo fatto un esempio, ma se ne potrebbero fare tantissimi altri, con i Mano Negra. Che tra l'altro fecero anche loro un viaggio in Colombia, no? Esiste un libro molto bello, si chiama La Mano Negra in Colombia. Ora che abbiamo parlato del Cebenitez necessariamente arriviamo a quello che forse è il musicista che meglio incarna questo stile di cui sto cercando faticosamente di parlarvi. Questo musicista si chiama Manuel Galban, è un musicista cubano che ovviamente ha una relazione molto stretta con Rai Kuder. Dal momento che non fa parte del gruppo originale del Buena Vista Social Club, non registra il Buena Vista Social Club nel 1997, ma registra con Rai Kuder il primo disco successivo al Buena Vista Social Club, cioè il disco solista di Ibrahim Ferrer, uno dei vocalist del Buena Vista. Quindi con Ibrahim Ferrer, Rai Kuder prosegue il suo percorso all'interno della musica cubana, coinvolge Manuel Galban per la prima volta e ricoinvolge ad esempio Orlando Cacciaito Lopez, che è il contrabassista con cui farà ulteriormente un altro disco stupendo. Manuel Galban è un musicista cubano professionista, con una tradizione lunghissima che parte da una band degli anni 50 e 60 che si chiamavano Los Zafiros. Con Rai Kuder incide nel 2001, quindi quattro anni dopo il Buena Vista Social Club, due anni dopo il disco solista con Ibrahim Ferrer. Diventa a pieno titolo uno dei punti di riferimento delle collaborazioni di Kuder. Tenete conto che il disco fatto da Rai Kuder e Manuel Galban si chiama Mambo Sinuendo, vince un Grammy, è prodotto dalla World Circuit Records nella persona di Nick Gold, che è un produttore illuminato alla base anche della produzione di Buena Vista Social Club insieme a Juan De Marcos Gonzalez, che era il direttore musicale di questo progetto ambizioso. Quindi avevamo un discografico, che era Nick Gold, avevamo un produttore, che era Rai Kuder, e avevamo un direttore musicale residente, se vogliamo, che era Juan De Marcos Gonzalez. Il Buena Vista Social Club, di cui però non andiamo a parlare adesso perché se no è come arrivare un po' subito al dolce, è come sapete un progetto che è stato anche documentato da un punto di vista visivo, da Wim Wenders, ma non solo. Susan Tittleman, che è la moglie di Rai Kuder, che è una musicista ma soprattutto una apprezzatissima fotografa, ha realizzato un documentario di circa 30 minuti sul lavoro che Rai Kuder in studio ha fatto con Manuel Galban su Mambo Sinuendo, cioè il disco che hanno fatto insieme, prodotto insieme nel 2003. Si tratta di un documentario autoprodotto di circa una mezz'ora per l'appunto, si può vedere su Facebook.